Condannato per peculato a un anno e dieci mesi di reclusione, pena sospesa, il sindaco di Tartano, Oscar Barbetta. Questa mattina in tribunale a Sondrio si è concluso il processo a carico del primo cittadino finito alla sbarra per peculato. L'amministratore è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, dalle accuse di truffa aggravata e falso. Mentre i giudici del collegio composto dal presidente Pietro Della Pona, giudici a latere Antonio De Rose e Barbara Licitra, hanno condannato l'amministratore per 23 episodi di peculato. Secondo i magistrati, Barbetta, sia come sindaco, sia in qualità di responsabile del servizio finanziario protempore del comune di Tartano, si sarebbe appropriato di rimborsi spesa senza averne diritto. Stringato è laconico il commento del primo cittadino che annuncia il ricorso in appello. Non sono riconosciuti, afferma Barbetta, nel lavoro, nell'impegno e nei sacrifici che un sindaco di Montagna ha profuso per amministrare un piccolo comune. Intanto il pubblico ministero Stefano Latorre, per decidere i prossimi passi della procura, attende le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro 30 giorni.